Negli studi di TV City, l'assessore alla pubblica istruzione del comune editore del greco Enrico Pensati, tante segnalazioni giungono in redazione sulla chiusura della biblioteca di Villa Macrina. Come stanno i fatti? Innanzitutto diciamo che sulla chiusura temporanea della biblioteca di Villa Macrina, perché tutti dovrebbero ricordare che la biblioteca fino al giorno prima dell'obbligo di chiusura dovuta all'emergenza pandemica è stata aperta, nonostante la carenza di personale è stata aperta sia in orario mattutino che in orario pomeridiano. Premesso ciò dobbiamo distinguere quella che è la polemica politica legittima perché mi rendo conto dei ruoli. Chi vi parla però quotidianamente interloquisce con i ragazzi che frequentano la biblioteca. La biblioteca è attualmente chiusa per un motivo banalissimo che è la rottura di una condotta idrica. Da qui a pochissimi giorni i lavori verranno avviati, quindi tempo due settimane e la biblioteca di Villa Macrina, la biblioteca Aprea, verrà riaperta. Come del resto lo è sempre stata. Ripeto, appena terminata adesso la rassegna, si avvieranno i lavori all'interno della struttura, verrà riaperta anche la biblioteca. Quindi tempi brevi, una buona notizia che arriva per gli abituali frequentatori della biblioteca e gli appassionati di lettura in città. Non solo, ma la biblioteca Aprea diventerà un punto qualificante per questa amministrazione perché questa città ha avuto, riconosciuto dal Ministero per i beni culturali, un progetto. Noi abbiamo una qualifica che si chiama città che legge, quindi la biblioteca Enzo Aprea sarà il fulcro di questo nuovo progetto. Nonostante la tavica carenza di personale, ciò nonostante, grazie allo sforzo dei dipendenti e dei ragazzi che quotidianamente vivono la struttura di Villa Macrina, la biblioteca di Villa Macrina, questa potrà nuovamente ripartire. Ripartire chiaramente anche in forza di un nuovo progetto che da qui a breve presenteremo.